Alla vaccinazione anti-covid definita un dovere. ...fosse iniziata alla campagna vaccinale all'interno del... ...ecaf, ecaf, ecaf, ecaf! La prima reazione è il shock. Shock perché nella nostra mente tutto è totalmente collegato. Nel Cidaiere abbiamo fatto questa pedicure che io non smetto di guardarla perché non mi sono mai vista le mani così belle. Ma chi è questo? Oh, signore! ...la città con la Torre Eiffel! Pisa! Don Umberto dice, io, ultraottantenne, ho tre patologie, quindi il vaccino era avanzato e allora... ...tu un uomo con i baffi l'hai conosciuto? Un uomo con i baffi l'hai conosciuto? Hai fatto una figura di merda quella di... ...sessanta un anno che sogno mi ha reddata... ...sposata... Posso dire che ho canuccio se no canuccio? Allora... ...dice che non è lei! Allora... ...quanto sono felice che vedo tutta questa... ...sì, eh? ...sì, vai! ...mi posso chiedere? Certo! Allora... Sono felicissima che vedo tutta questa... Sarina! Sarina! Ecco, io credo che dal punto di vista delle dotazioni vaccinali per poter... Stati Uniti, il presidente eletto Biden, scusate, si fa vaccinar... Posso farla parlare? Certo! Certo! Tu smettila! Vediamo positivo, non è che uno è malato, è malato di Covid... Sono ancora i ritardi delle aziende farmaceutiche nella fornitura dei vaccini... ...vicino a me con le due sole del grande fratello, prego... Vivian! C'è questo ingegnere urbani che ha fatto una scoperta importante, cioè che quel masso non... E quindi c'è un'erede! No, ragazzi, buoni... Le nuove colorazioni delle regioni a partire da domenica... Io ti voglio bene, i tuoi consigli sono stati sempre ben accetti... Lo hai visto che li ho accettati a cuore aperto e ne ho fatto cassetto, quindi questo dimostra... Fesce di chi? Fesce bianco, ragazzi, qua ti penso solo a mangiare... Beh perché vedi qualche negro da questa... Ma dai! No! No, ma che fraintendano! Andiamo avanti! Lo stocca fisso... E adesso sono calda! Mi hai portato... Ornella? Scelofanalo! Scelofanato! Scelofanato! Scelofanalo! Chi? Scelofanalo! Celo? Scelofanalo! Scelofanalo! Tiro giù i pantaloni che mi sierano! Scelofano! Ma scusa perché non l'hai fatto tu me lo fai... Ma io non lo faccio, i regali si fanno poi si... Lo devo scelofanare? Allora, caro, caro, insomma, caro è un modo di dire.